Mi dice che c'è la curazza C'è c'è Warzone Ah non ci ha fatto caso Si ma C'è la curazza Ma hanno aggiunto qualcosa Non è che hanno aggiunto qualcosa Ma magari è impossibile C'è come è impossibile No strano C'è qualcosa che non va Ecco Ecco perché prima Facciamo fatica a ammazzarne uno C'era uno solo e non riusciamo a ammazzarne No strano Ma cos'è questo schifo Assurdo Ma facciamo partire una bella segnalazione Ah Certo No a meno che Non hanno aggiunto qualcosa Non può essere Ah è impossibile Però C'è sulla curazza è impossibile E allora è easy Una cosa Eh si Quello che ha lo scudo tra l'altro Cazzo Che palle Quello che ha lo scudo D'andava dal davanti Non dal 10 Non muore Ma muore Un caricatore L'ho sparato E poi Non è un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Touchpad E' un giocatore Pg R3 Ah R3 E' io Utilizzo trucchi Sì L'abitudine a segnalare Surrender Ciccio è un rpg però Un grigio Oddio che pittà E' un po' un altro gioco ok e di spazio e di spazio ecco di che non crepa ma tra l'altro anche se lo colpisce la testa è assurdo maria ma che cazzo sta succedendo come sei fuori si anche a me la data cioè perché è ammazzato qualcuno di noi può essere perché ti sei suicidato e vabbè ok stavo salendo mi ha perso la presa ti sei suicidato e ti ha espulso per un minuto strano non ci credo è vero porca troia e questo non ha lo scudo perché quello con lo scudo se gli spari dal davanti dietro c'è comunque non ammazzi ed è troppo strano perché lo scudo quando ciò davanti non riuscire e poi c'è tante cose anche scarse perché riesci a comunque ucciderli sì sì ma non è più io se vuoi che ti tiro qualcos'altro non so la madonna la vuoi dietro? ti tiro pure lei no vabbè rega comunque cos'è assurdo mi c'è fastidio guarda c'è ma tutti e due quelli che si hanno ammazzito 80% e 90% ma da quello che molti stanno parlando con le cose l'anno prossimo stanno molto meglio quest'anno non sono riusciti a gestire tutto questi casini ma è bello che non è che il post play attivo guardalo lì guardalo lì questa storia della corazza non è assurda purtroppo lì porca però non hanno una corazza il juggernaut figa no ma guarda la registriamo dopo la registra sta partita si io dopo salvo la clip si si A meno che davvero non hanno aggiunto qualcosa E troppo un conto è aggiungere qualcosa sai Magari hanno aggiunto davvero le corazze ragazzi Non lo so mi sembra strano però Io tanto che non gioco a multi Ma tutti ce l'hanno anche l'altro E' già il terzo Dovebbero essere rossa tutta la squadra mentre il 4 Dovebbero averla Ma dai Dai però c'hai la mamma troia C'è il campione pure Si si beve Si non sono incapace di giocare Non ci credo ragazzi Non ci credo Gli ho sparato 400 colpi Non è morto Adesso la rifisto Ero vicino a lui Oh yeah Sarà voi gli ultimi 10 minuti E' morto Micchia Eccolo le cori Guardalo No dai dai c'è qualcosa dopo Troppo strano Cioè non sei se non c'è di merda Sei pure scarso Fai schifo alla merda C'è uno dietro Guardalo guardalo No 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 Ragazzi l'ultimo L'ultimo spettacolo Adesso lo salvo Perché Aspetta Guardalo 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 Cos'è che ha Vedi C'è uno No Scusa un attimo Guardiamo Nelle impostazioni Ragazzi io sono fatto la patovide E' assoluto Comunque Il fatto è che Sono andato in positivo